ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video di vigilia perché domani giochiamo con l'empoli avrete mai pensato di ritrovarvi qui a dire mannaggia l'empoli che ci ha battuto all'andata rischia di farci saltare in banco anche al ritorno perché se no in champions league non ci arriviamo eccoci qua lo stiamo pensando è un momento molto molto delicato ieri ne abbiamo parlato anche dal punto di vista degli infortunati dato che abbiamo diversi giocatori fuori e allegri su queste cose ci è tornato e ovviamente ha aperto anche al fatto che ci saranno degli under 23 come vi avevo preannunciato anche ieri perché ripeto abbiamo 13 giocatori di movimento e sono pochi sono molto pochi quindi allegri l'ha detto chiaro e tondo ci sono dei ragazzi in under 23 che potrebbero addirittura giocare sono pronti per giocare dobbiamo fare di necessità vero tu ieri qualcuno mi ha detto no vabbè ma allegri purdi io credo che in questo momento non possano esserci delle scelte differenti a meno che tu non voglia andare a utilizzare sempre solo questi giocatori che magari si sono anche stancati e tanto e ci sono tanti giocatori che devono rifiatare e che quindi non andrai nemmeno a provare a buttarne la mischia io sono sempre dell'idea che buttarne la mischia dei ragazzi quando le cose non vanno bene non è la cosa migliore ma in questo momento lo devi fare per forza di cose perché sennò vai semplicemente a danneggiare sia la squadra che i giocatori superstiti perché di superstiti possiamo parlare vista la grande mole di infortuni che sta danneggiando la juve in questo momento qualcuno mi ha detto ma secondo te cosa si dovrebbe fare cosa si dovrebbe cambiare io ragazzi faccio fatica a darvi una risposta a questa domanda semplicemente perché di mestiere non faccio il preparatore atletico non ho competenza in questo campo però mi pare di vedere che davvero negli ultimi tre anni contro le note diversi e quindi tre staff atletici differenti abbiamo dei giocatori che continuano sempre a farsi male magari anche negli stessi punti come di bala come chiellini come alexandro come di sciglio stesso come bernardeschi anche quindi cronici in alcuni punti a livello muscolare e dei giocatori come chiesa come meccanico come caio che semplicemente ragazzi lì è sfortuna perché sono degli infortuni diversi differenti non sono nemmeno muscolari quindi lì ci puoi fare poco c'è onefootball da scaricare il link è qui sotto in descrizione oppure potete scaricarlo inquadrando col qr code del vostro smartphone questo punto qr code con la fotocamera del vostro smartphone per avere un'applicazione che andrà a consigliarci quella che sarà la propria formazione io la mia l'ho fatta ieri non cambia di una virgola quindi vi invito a andare a vedere quel video poi su onefootball leggeremo se ci saranno delle novità e anche i convocati per vedere chi effettivamente dell'under 23 sarà a disposizione di allegri e infatti allegri dice vediamo quelli che sono in piedi ne abbiamo in abbondanza ci sono due tre under 23 pronti domani dobbiamo vincere dato che abbiamo perso anche all'andata e dobbiamo dare risultati continuità ai risultati aggiungo io dobbiamo vincere dobbiamo dare continuità con la vittoria punto cioè non c'è il pareggio che dice meglio il punto che perdere sì certo questo è logico però nelle ultime partite hai fatto troppi pareggi non hai mai centrato la vittoria nelle ultimissime ed è ora semplicemente è ora dobbiamo vedere anche come siamo messi dietro dice allegri perché bonucci non doveva giocare l'altro giorno invece è stato costretto a fare 45 minuti aspettiamo il lungo dei genti bernardeschi di bala dovrebbero tornare presto rugani chiellini torna sicuro dopo la prossima settimana e alexandro vediamo non lo sappiamo ancora potrebbe partire ken nel caso riposerà uno tra vlaovic e morata devo dire la verità ci può stare alla grande perché sia vlaovic che morata stanno giocando tante partite una dietro l'altra vlaovic tra l'altro praticamente non si è ancora mai fermato non sarei stupito di vedere un ken dal primo minuto e poi ha una domanda sua che è sole e dice sono entrambi esterni destri amano partire da quella posizione di destra poi ce n'è uno che sta un po più largo che è che è uno che entra dentro al campo in rifinitura che sole zero titoli vediamo alla fine intanto siamo lì bene o male su tutti i fronti tranne in campionato dice allegri che è impossibile poi farà anche la quota scudetto coppitalia siamo dentro in champions invece vediamo col ritorno inerente al villareal dobbiamo ancora migliorare tanto nella gestione e nel possesso palla in questa conferenza stampa tanti giornalisti sono andati su questo punto sul fatto che la juventus in questo momento sta facendo pochi gol sta convincendo poco c'è ancora qualcosa da migliorare dopo un inizio post calcio mercato invernale che sembrava andare in quella direzione lì e allegri ha dato le sue risposte quelle che voleva dare lui non quelle effettivamente coerenti con le domande in champions abbiamo avuto buona occasione la gestione dice allegri ma siamo stati frettolosi nelle giocate e deve avere un controllo maggiore della partita allegri punta sotto questo punto qua scusate la ripetizione spinge su questo punto qua lui vuole una gestione migliore da parte della sua squadra e secondo me torniamo sempre al solito punto e cioè che non è la vecchia squadra di allegri non è la squadra che gode nel difendere che ama la gestione questa è una squadra differente la squadra differente è composta giocatori differenti che un po al punto che dice sempre lui no l'esperienza sì l'esperienza aiuterà e sicuramente avere tanti anni tante stagioni tanti allenamenti squadra allenatore arriveremo al punto in cui questi giocatori saranno più esperti nel fare quello che chiede appunto l'allenatore però c'è anche da considerare le caratteristiche individuali di questi ragazzi e io non vedo una struttura tale per cui questa Juventus potrà essere esattamente la Juventus di tanti anni fa ma non lo dico da oggi lo dico da quando ancora Pirlo era natore della Juventus e si vociferava dell'arrivo di Massimiliano Allegri c'era ancora Cristiano Ronaldo non c'era Locatelli non c'era Vlaovic non c'era Caio c'era De Miral cioè era proprio è proprio una squadra differente questa quindi sì magari con il tempo arriveremo a quel controllo a quella gestione che chiede Allegri però bisognerà intervenire sul mercato andare a prendere dei giocatori diversi dei giocatori che saranno disposti a fare questa cosa qui ma non perché questi non la vogliono fare ma per indole per indole di questi calciatori poi dice 4 scudetti intorno alle 85 punti con la Champions invece non ve la dico perché siamo coinvolti 85 punti forse sono anche un po pochi però vediamo dipende un po come andranno queste altre squadre da qui alla fine ovviamente intendo Inter Milan e Napoli e infatti poi iniziano perché si fanno pochi gol Allegri dice ancora anche l'altra sera abbiamo sbagliato tante scelte di passaggio dentro l'area di rigore non siamo stati lucidissimi dovevamo segnare un gol in più nel primo tempo perché se no Pirlo andiamo a prendere andiamo a riaprire la partita e quindi anche la qualificazione è vero questo è vero perché nel primo tempo la possibilità di andare sul 2-0 ce l'hai avuta a dover di cronaca è giusto dirlo c'è anche stata la possibilità da parte del Villareal di andare subito sull'1-1 ed è vero che nel primo tempo potevi farne anche due però poi non ci sei riuscito e nel secondo non hai insistito su questa cosa e sei andato a quanto pare perché questa è la spiegazione che c'è da Allegri oggi a inseguire la gestione completa del risultato che è un po' il discorso che faceva Allegri con l'Udinese all'andata quando sei sopra 2-0 e Allegri ti dice non siamo stati bravi a gestire l'imprevisto e cioè dal 2-0 una nostra cappella un nostro errore il nostro portiere va a riaprire tutto e non siamo stati bravi a portare a casa la vittoria e già all'epoca era un campanello d'allarme nel senso questa squadra probabilmente il risultato non te lo sa gestire poi il fatto che sia stato un episodio di Scesni singolo che poi si è ripetuto con il Napoli ma poi si è esaltato e ci ha fatto recuperare anche secondo me tanti punti con tante parate questo è un altro discorso e Allegri poche giornate fa diceva la gestione dell'imprevisto invece l'abbiamo un po' assorbita sì ok sono d'accordo è vero siamo più squadra da quel punto di vista sono dei passi in avanti ma non sono i passi in avanti sufficienti secondo me che dovrebbe avere una squadra consapevole del fatto che vuole arrivare in Champions e non passare il turno e non se ne parla di non passare il turno che vuole provare a vincere la Coppa Italia e non se ne parla di non vincere la Coppa Italia di una squadra allenata da un allenatore che è uno dei più vincenti nella storia della Juventus e da una squadra che fa un mercato invernale da 100 milioni poi è vero ci sono stati tanti infortuni nel frattempo e lo sappiamo basta vedere quello che di cui stiamo parlando adesso ma non è questione di infortuni è proprio una questione di secondo me questa squadra non potrà mai essere eccellente nel fare quello che gli chiede l'allenatore quindi la gestione quindi cercare di accettare l'imprevisto no questa è una squadra che intanto vai 2 a 0 se non 3 e poi vediamo come andiamo ma non chiedo che boom 1 a 0 e poi boom 2 a 0 e poi boom 3 a 0 non è questo che chiedo chiedo però che arrivino più palloni a Vlaovic perché il discorso non può essere sì però noi abbiamo avuto le giocate Allegri fa l'elenco non è questa occasione questa occasione abbiamo sbagliato sì ma una volta che le abbiamo sbagliate non abbiamo più replicato questa cosa e non abbiamo più dato la possibilità alla squadra di andare sul 2 a 0 quindi a un certo punto per forza le cose l'1 a 1 te lo vanno a fare proprio perché questa squadra non ha ancora assorbito al 100% la gestione del risultato e ce lo dice Allegri stesso quindi mi sembra un po' un cortocircuito quello che è il ragionamento di fondo di Allegri e cioè siamo migliorati sì non siamo ancora bravi ok ma lo faccio lo stesso quindi come ci arriviamo a diventare effettivamente così ribadendo che secondo me ci sono dei giocatori che hanno delle caratteristiche che per indole non ti permetteranno mai di gestire il risultato continuando a prendere degli schiaffi continuando a provare a gestirla senza riuscirci e questo secondo me il punto focale del discorso dove andiamo dove arriviamo seguendo i binari di questo ragionamento perché a me va benissimo che l'allenatore mi dica guarda invece secondo me ci si può riuscire perfetto però siamo in ritardo di condizioni allora siamo in ritardo sul calendario ma proprio per quello che dice Allegri stesso a marzo marzo è il mese in cui le partite pesano i punti pesano e quello che si raggiunge a marzo è quello che poi si proietta sul finale di stagione e secondo me per essere a marzo siamo molto indietro se questa è la volontà dell'allenatore se questo è il piano dell'allenatore e non è che lo dico io ce l'ha detto lui quindi secondo me siamo molto 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 indietro Vlaovic ha toccato solo quattro palloni nella loro metà campo in spagna dice un giornalista e Allegri dice è vero però in spagna ti invogliamano anche a giocare più sulla profondità perché tenevano una linea molto alta sì questo è vero ma vale il discorso di prima perché poi dal 55esimo 60esimo in poi stop fine blackout lo accettiamo no nel processo di crescita fai il 2-0 poi lo accetti se vuoi ma almeno il 2-0 lo fai poi lo puoi accettare ma se non arrivi a fare il 2-0 questa squadra la gestione dell'imprevisto completa non ce l'avrà mai dopo McKennie l'infortunio di McKennie entra a Miretti e Allegri dice su le ormai è in pianta stabile prima squadra considerato un giocatore da prima squadra a che i Miretti ora invece staranno più tempo con noi io credo anche un difensore perché vedremo se sarà davvero stramaccioni secondo me siamo corti anche dietro all'andata dice Allegri bene noi nei primi 20 minuti nei primi 20 minuti poi abbiamo preso uguale ci siamo disuniti che è quello che dicevo prima i passi in avanti ci sono stati perché con l'Udinese scoppiati con l'Empoli che era lo stadio è vero 20 minuti fatti bene con anche Chiesa e Dybala che fanno due o tre robe fatte bene poi non troviamo il gol lo prendiamo noi bambola totale lì anche delle scelte di Allegri che ricordo penso che abbia preso 4 e mezzo come valutazione in quella partita nelle mie pagelle con il Rombo con Meccani trequartista con Danilo Rabiot e Bentancur a centrocampo c'è proprio una roba senza il centro avanti con Dybala e Chiesa nelle due punte anche proprio tatticamente eravamo messi male però è ancora lì che andiamo a parare all'andata nelle prime partite eravamo un disastro incredibile e la consapevolezza e la mentalità che ha legato questa squadra secondo me c'è infatti tanti continuano a dirmi ma dove la vedi sta roba? ragazzi ma le prime partite sembravamo la squadra che giocava al campo del prete quindi per forza di cose c'è stato un progresso e poi se mi chiedete sei soddisfatto al 100% di Allegri ti dico no ma neanche al 70 ma neanche al 60 e lo sapete bene perché quando a gennaio faccio il pagellone su Massimiliano Allegri dico ragazzi secondo me è insufficiente è da 5 più se vogliamo 5 e mezzo io dico 5 più perché non andiamo a vincere nemmeno col Venezia e non andiamo a prendere due punti che sarebbero stati importantissimi e non ero soddisfatto della gestione Allegri e lo sapete benissimo infatti mi fa sempre ridere quando mi dicono che io Allegri lo difendo davanti a tutto e tutti vi sembra un talebano? cioè proprio siamo lontanissimi siamo veramente lontanissimi da questa cosa qui e penso che sia evidente anche tipo in questo video qui vi vado a elencare le cose che secondo me sono sbagliate in questo momento nella gestione che poi non significa che se secondo me sono sbagliate sono sbagliate effettivamente che secondo me siamo in ritardo e quindi siamo in ritardo effettivamente però è quello, è la sensazione che mi dà guardare questa Juve e cercare di capire i progressi di questa Juve partita dopo partita anche perché quando sembra la Juve di aver fatto due passi in avanti poi ne fa tre indietro poi ne fa due in avanti poi ne fa un indietro poi ne fa cinque in avanti poi ne fa sei indietro e allora rimani lì in quel limbo della mediocrità e te lo dice anche comunque il fatto che sei quarto barra quinto in campionato sei con un piede dentro e un piede fuori dalla Champions adesso vediamo in Coppa Italia perché andare a Firenze in questo momento non è mica facile e ci andiamo mercoledì quindi occhio e infatti Allegri cosa dice? loro hanno tre giocatori davanti che rimangano lì e ci danno fastidio sicuramente poi loro sono un po' più liberi perché sono spensierati non hanno problemi di classifica noi invece domani dobbiamo vincere e mi fa piacere che almeno due volte venga fuori la parola vincere e non risultati utili consecutivi pareggio perché non è quello che ci serve non ci serve più il pareggio con l'Empoli certo è utile invece che perdere e se succederà che come con l'Atalanta in cui a due minuti della fine saremo sotto e pareggeremo il novantesimo esulterò ancora il pareggio ma che non significherà che io sia contento per il pareggio significherà che piuttosto che perdere al novantesimo esulto per il pareggio ma lo dico da qui e sicuramente porto avanti questo pensiero domani non c'è un risultato diverso dalla vittoria per essere accettabile non accetterò nessun risultato diverso dalla vittoria e infatti dice domani sarà una partita diversa rispetto a quella col Villareal non andremo a ricercare rampiezza tradotto non sarà la difesa 3 il 3-5-2 che abbiamo visto col Villareal sarà una squadra diversa perché abbiamo migliorato questa cosa dice Allegri riusciamo bene in questo momento a preparare le partite a seconda degli avversari cercando di evidenziare i punti deboli agli avversari e sfruttare i punti deboli agli avversari e anche questo fa parte del processo di crescita di una squadra allenata da Massimiliano Allegri è inutile che poi si dica no però non deve fare così e rimaniamo sempre lì come secondo me siamo indietro come secondo me si è lavorato male sotto alcuni punti di vista rimane un secondo me Allegri cerca queste cose perché Allegri allena in questo modo che sia il modo che piaccia a me che sia il modo che piaccia a te è un discorso diverso Allegri non va sul campo da calcio a dire ragazzi oggi facciamo un allenamento intero sulle triangolazioni perché voglio venire fuori di prima sul pressing avversario o voglio venire fuori a due tocchi sempre voglio arrivare con tre tocchi in porta partendo dal basso costruendo dal portiere non è quello che cerca Allegri semplicemente non allena verso questo modo quindi non sarà mai una squadra guardioliana non sarà mai questo la Juventus di Allegri non avrà mai questa cosa ma avrà altre caratteristiche però poi le devi azzeccare dal punto di vista tattico perché per dire col toro secondo me hai completamente sballato la partita dal punto di vista tattico io rimango sempre di quell'idea mi va bene non è un problema ragionare sul devo cercare perché Allegri dice dobbiamo ammazzare l'avversario ok? dobbiamo cercare di ammazzare l'avversario dare la possibilità all'avversario di non rientrare in partita a me vanno bene queste cose non è un problema Allegri è sempre allenato così e continua a allenare così e però c'è un ma il fatto che non arrivino palloni giocabili a Vlaovic questo mi manda nei matti perché semplicemente all'andata avevi dei limiti non avevi il centro avanti non c'era possibilità di far male arrivavi lì davanti e poi non sapevi cosa fare a chi darla adesso lo sai cioè tu i palloni a Vlaovic devi far arrivare e non sempre solo spalla la porta non sempre solo col lancio lungo deve essere un pallone giocabile deve essere un cross deve essere un passaggio in verticale deve essere la possibilità di metterlo a tu per tu col portiere perché poi lui fa gol e non il fatto che gli do palloni per un'ora poi se dopo un'ora non ce la fa allora basta gestisco solo il risultato no tu lo puoi anche gestire ma poi non può venire meno il fatto che Vlaovic davanti ce l'hai e il pallone lo devi far arrivare sono queste le cose che mi mandano nei matti non nel fatto che oddio gli altri giocano un calcio più spettacolare del nostro e noi come se facciamo oddio gli altri hanno un'impronta ben definita e so che tutte le volte fanno quella partita lì l'altro giorno vedevo un video di Lello di Colpo Gobbo che faceva l'esempio e diceva il Napoli di Sarri aveva la giocata con il taglio di Cajéon ok e aveva sempre questa giocata come avevamo noi con Piroli Steiner non so se ve la ricordate e dice invece i gol della Juventus sono tutti diversi arrivano da costruzioni individuali perché la pala ce ne ha attaccanti e poi si arrangiano sì è così ma è sempre stato così perché semplicemente Allegri non ragiona per schemi lì davanti negli ultimi metri non vuole schematizzare il tutto vuole dare la libertà agli attaccanti vuole cercare di lasciare la libertà a seconda di quello che gli attaccanti pensano possa essere meglio ed è il concetto di squadra pensante di Allegri e secondo me è un concetto difficile da raggiungere per una squadra come questa Juventus Allegri ragiona per principi poi è lui a guidarti dalla panchina è lui a darti la situazione lui prepara delle situazioni mentre c'è una testa di un gatto che si stiracchia che compare nella videocamera non sarà mai uno schema offensivo non vedremo mai Allegri fare una roba del genere come per dire il gol che ha fatto Tudor l'altro giorno contro la Roma quella bella punizione un bello schema su punizione venuto bene che trova il gol ma perché Allegri allena in un altro modo poi che sia un modo di allenare vecchio nuovo antiquato arretrato inedito queste sono altre cose sono cose differenti ed è per questo che può piacere come può non piacere a me piace a me piace a me affascina ma non perché mi piaccia questo modo di intendere il calcio perché a me piace vederli tutti sono stato affascinato da Conte sono stato affascinato da Allegri io sono stato affascinato da Sarri e da Pirlo e rimarrò sempre affascinato nel vedere degli allenatori che sono bravi perché per forza di cose sono bravi l'unico che possiamo aprire una parentesi grossa è Pirlo però secondo me Pirlo ha delle ottime idee delle idee all'avanguardia e che poi diventa difficile amalgamare con la condizione di Juventus e quindi di fare risultato e infatti a un certo punto l'anno scorso se ve lo ricordate dicevo ok è una bella idea è interessante io non sono amante del calcio trasformista ma se funziona mi va bene il problema è che non stava funzionando e quindi facciamo un passo indietro cerchiamo di allontanarci un po' dalle nostre idee per il bene della Juventus infatti io ho apprezzato tantissimo Sarri per come mi vince lo scudetto che si rende conto che quella squadra lì il calcio che voleva fare lui non lo faceva non lo avrebbe fatto per caratteristiche che era impossibile farlo e Sarri si adegua si adatta perché è stato intelligentissimo a capire la Juventus quella Juventus ed è un po' anche quello che mi fa storcere il naso in questo momento perché ripeto ancora una volta secondo me questa Juventus non può seguire alla lettera quello che sta chiedendo Allegri e Allegri dovrebbe venire un po' incontro alle caratteristiche dei suoi giocatori e a quella che è questa Juventus e quindi la possibilità di non arrivare sempre a gestirlo quel risultato ma ad esaltare le caratteristiche dei giocatori che in questo momento per fortuna davanti possono far qualcosa con Vlovic su tutti mettere le proprie idee di fronte a quello che la Juventus sta facendo secondo me in questo momento non è fantastico poi che Allegri sia più lungimirante di me sia più bravo di me conosca più calcio di me beh io di questo ne sono sicuro però siamo sempre lì che siamo a marzo siamo a marzo e sì va bene siamo in corsa per tutto ma la Champions non credo che la vinceremo la Coppa Italia magari sì nei primi quattro mi sembra il minimo davvero il minimo e quindi vediamo dove ci porterà questa roba perché poi alla fine se ne parla sempre alla fine tutto quello che accompagna sono valutazioni sono critiche sono ragionamenti ma non sarà mai il giudizio definitivo perché semplicemente non può esserlo perché è ancora tutto aperto ancora tutto in corsa niente parole opinioni pensieri sparse nella mia testa in relazione a quello che hanno chiesto ad Allegri quello che ha risposto ad Allegri fatemi sapere anche un po' la vostra qui sotto nei commenti è la vostra 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 la vostra